E allora, ritirato il numero 1 Try Again, restano in 14 Aldia, 2 Sayano Lod, 3 Birko Alter, 4 Verdi Prav, 5 Champagne Fior, 6 Coca-Cola S, 7 Voucher, in seconda fila 8 Arondesi, 9 Blue Train, 10 Baltasar SSM, 11 Besta V, 12 Anubis, 13 Zirconerab, 14 Vivurno Debuti, 15 Zara Pito. Settima corsa di Palermo, anziani di categoria G, l'errore in fase di allineamento da parte del favorito Verdi Prav, che viene imitato anche da Champagne Fior di Galoppo, si inizia dunque con tanti colpi di scena ed è Coca-Cola S che nonostante il 6 di partenza va a assumere il comando e direi che mette una serie a ipoteca sulla corsa anche perché appunto il più atteso Verdi Prav si è notevolmente attardato. Luciano Messineo con Coca-Cola S al comando, si presenta comunque Birko Alter in terza posizione, Sayano Lod, Birko Alter prova a sfondare e ci riesce all'imbocco della retta delle tribune con 29 secchi per i primi 400 metri, dunque Giuseppe Cordove e Birko Alter al comando, per linee esterne Arondesi, una delle tante notizie di questa corsa, nella sua scia c'è Zirconerab, 600 metri iniziali molto veloci, 44 e 2 da 1, 13 e 7, si profila una corsa con tante possibili sorprese, mentre serra sotto anche Anubis e va ad occupare la terza pariglia, dunque Birko Alter in avanti in scia Coca-Cola AS all'esterno Arondesi seguito da Zirconerab, mentre come dicevo è Anubis che si mette in luce al largo di tutti, il suo cambio di marcia sembra davvero molto efficace con Giacomino Ferrante che sta attraversando un periodo di forma sbagliante, sfonda ai 400 finali, Anubis dopo un primo chilometro in 1,15 si fa sotto anche Zara Pito, altro cavallo sicuramente non fra i più attesi, e ci avviciniamo alle fasi conclusive con Anubis che prova a prendere vantaggio nei confronti di Zara Pito, serra sotto anche un altro outsider, Baltasar SSM, altro cavallo che è stato oggetto di attenzione al gioco, ultime battute e stanco Anubis cerca di sollecitarlo, Giacomino Ferrante si fa pericoloso, Baltasar SSM, Zara Pito all'interno ma vince Giacomino Ferrante ancora lui con Anubis, media di 1,15,3 nei confronti di un sorprendentissimo Baltasar SSM, cavallo che praticamente non si piazzava da moltissimo tempo, terzo posto per Zara Pito, altro cavallo piuttosto trascurato, dunque un arrivo in parte sorprendente, Anubis era comunque il contro favorito e Giacomino Ferrante lo ha guidato da par suo, il training del vincitore è di Massimo Zanca, i colori del signor Giuseppe Peralta, secondo posto per Baltasar SSM, che sorpresa, terzo per Zara Pito, dunque in numeri 12, 10, 15, il sorprendente arrivo di questa settima ed ultima corsa di Palermo, Palermo che vi dà appuntamento, ovviamente ordine d'arrivo da confermare, Palermo che vi dà l'appuntamento all'imperdibile giornata di sabato 13 maggio, con un Gran Premo Trinacra e tante bellissime iniziative e per oggi dalla favorita è tutto.